guardate quanto ci si disfa di per vincere i mondiali ma vale la pena poi anche un tagliandino qua a si è un omino che ti aspetta per controllare se la tua vittoria è legale o no arca boia ma è legale questa vittoria o no adesso poi ce lo sanno dire ah va bene complimenti gabriel